Musica Ciao a tutti No come facevo l'interno Mendo un voto di memoria Ciao a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con Iacorollo Weee Ciao a tutti Ragazzi siamo sul server di Mineplex Addirittura sopra il logo quindi guardate che bella vista A fare Hunger Games per la prima volta Con Iacorollo e si so che si chiamano Survival Games ma come ho già detto ragazzi Non posso ripeterlo tutte le volte e voi continuate a scrivermelo GG Ma come è quadrata la mappa dall'alto Ehm si abbastanza Ha un pene quello Ok ragazzi siamo nella prima partita Iacorollo è qui alla nostra destra Andiamo a destra Ragazzi ci organizziamo Perché se no facciamo bordello Perché appunto qua non è un semplicemente Un survival games in cui si può fare team Ma proprio ci sono i team che è ben differente Come cosa Iacorollo scappa subito Scappa subito Ci sei dietro? Sì Ok perfetto Qua c'è subito una chest Spara Incredibile Ok ok perfetto Quindi non la faccio vedere a nessuno Qua dentro Qua dentro Come qua dentro No no Iacor Cosa fai bisogna andare dritti Per la cassa Trovate le scarpe Ma devi venire qua da me Iacor Ma fa il culo Io rincorro questi due tipi Ci sono due casse Rincorro questi due tipi qui Dai cavolo Cane attaccali Dove sei? Dove sei? Prova ad uccidere uno Prova ad uccidere uno Ok l'ho ucciso per fortuna Dove sei? Allora aspetta l'accetta anche lui Arrivo arrivo Vieni verso di me Vieni verso di me Ok l'ho ucciso Ho fatto la doppia Gioco di squadra hai visto? Sì esatto No tieni le scarpe Allora no ce l'ho anche meglio Allora Tieni i pantaloni Tieni un po' di cibo Questo fa 4 Questo fa 4 Però questo fa i critici Ok Lo ce l'accetta Sì perfetto perfetto Andiamo Iacor da questa parte Io almeno questa ampia qui la conosco So la strada all'incirca eh Quindi Sì ma anche io guarda sono pieno proprio Ah c'ho anche il cappellino oltretutto Se non me lo metto Allora qua ci dovrebbe essere delle ceste a destra e alcuna a sinistra Ok qua non c'è nulla Spero di trovare qualcosa in questa cesta Io sono entrato nell'altra casa Oh spada No guarda io ho trovato schife Oh c'è uno qua c'è uno qua però Aspetta Jacopo Io sono nell'altra casa Eh no io sono nell'altra casa Aspettami Mi ha tirato tipo tantissimo in aria Cane attaccalo Bravo cane Bravo cane Ma perché l'ho missa Oh Cavolo eh Sto rincorrendo il rosso io Vediamo quanti rossi sono Lascia stare Sennò ci dividiamo Ci dividiamo No tranquillo Non mi allontano più di tanto Poi lui tra un po' Deve andare a mangiare Quindi Cazzo ne so io Non ci troviamo Mai più No 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 È nell'angolo È nell'angolo Più o meno Però Cadavri everywhere però Cazzo Ok dai dai Sì perfetto l'ho ucciso L'ho ucciso Buono Quindi erano in team quelli due rossi Quindi l'altro è ancora vivo eh Però non solo vi sia Probabilmente non si stavano seguendo Allora Jacopo Hai presente Dove c'è lo standardo con la X O un più rosso O una roba simile Metano sono dietro di te Dove? Era nella casa Quale casa? Qua Oddio Dove cazzo è spaccato Niamo di qua Niamo di qua Niamo di questa qua Io sono messo male però È chiusa Ehi perché si è messo male? Eh guarda l'armatura Dio mio cosa fa Eh vabbè c'erano due porte Potevi entrare Aspetta Aspetta tu che hai il kit dell'arco? No Perché Eh ok vabbè Alla tieni comunque l'arco Io non lo voglio usare Allora qua non c'è nulla Qua dentro niente Aspetta Jacopo Tra un po' c'è Tra un po' spona la ceste eh Te lo dico Oh e tu hai dei stivali Ti saranno dei stivali? No No già tutto Già tutto Dove sei? Sono uscito Ok vieni Allora Tra un po' spona la ceste No bisogna stare attenti Semplicemente Guardiamo qui intorno Com'è se c'è qualcosa Non lo so È il legno Non l'ho messo male Cosa? Purtroppo is coming Esatto esatto Bisogna guardare in alto Dovremmo vedere tipo Un fascio di luce O un qualcosa di simile Eccolo qua Jacopo vieni Vieni qua E forse Sì è qua davanti a noi Vieni Perfetto Quindi Se ce la facciamo A prendere questa ceste qui Per farti capire Abbiamo un bordello di roba buona Però espona la mattina Bisogna andare da questa parte qui Penso si salga da qua No Non ci Aspetta Ok Aspetta Ok perfetto In modo tattico Stiamo salendo Dove stai andando? Che strada è? Oh ci sono due là Ci sono due là Dove sei? Guardali là Eccoli là Eh no perché sono Stanno venendo anche loro da questa parte Vieni qua Jacopo Non so se No cavolo non era fattibile come salto In che parte si sale? Non capisco Ce la fai Ce la fai Ce la fai Eh hanno preso quello là Mi sa Eh sì ma ci possiamo comunque andare Ci proviamo Vieni da questa parte qui Dove? Ok Ehm Verso la Ok sì ci sono due tipi Due tipi ci sono Anzi no è uno solo Ah no cavolo Sono due hanno già preso la roba Sono anzi troppissimi Jacopo te che vuoi fare? Andiamocene via Sono dove Avete deciso quei due là Quei due Ah ecco qua Jacopo Allora aspetta Ce la giochiamo tattica Qua davanti c'è un bordello di gente Ok Quindi se noi andiamo E ce ne approfittiamo Della situazione Ok ce n'è uno qua davanti a noi Proviamo almeno a uccidere lui È il verde Dai Te ci sei dietro? Sì È messo più bene Cioè più bene Dio mio In due ce la facciamo In due ce la facciamo No 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 Eh dietro 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 Cavolo cavolo No è messo È messo molto meglio di me E no anche dall'altro lato Sono morto Niente Eh ragazzi Cavolo cavolo Ok ragazzi Siamo nell'ultima partita Stavolta siamo nel team Dream E la mappa è tipo quella della città Sì è una città alla fine Un po' disastrata Ma è sempre una città Comunque Jaco Qua è un po' un casino Prendere le ceste al centro Che in genere Io almeno faccio casino Con i salti Ecco l'ho appena fatto Ok Un po' di roba L'ho presa Scappiamo subito Jaco vieni Jaco Ok E c'è uno con la cetta Solo a destra Non so se l'hai visto Quindi andiamo qua a sinistra Io ho trovato un pochettino D'armatura anche per te E qua c'è già la gente Che ti può invece andare a prendere Le ceste centrali Se ne è andata a giro Quindi andiamo ben lontani Ci sei dietro? Sì sì Ok Ce n'è una qua Ok Almeno abbiamo un'accetta Un qualcosa Aspetta Jaco Fermati un attimo Qua c'è una cassa Ok Delle cose da darti Tieni Olle Hai preso? Ti ho messo l'armatura Ok Allora vieni qua Ci dovrebbe essere una Dentro la cascata E una qua vicino al ponte Se non sbaglio Però era sotto Sotto il ponte stava No Boh allora mi confondo Con un'altra cosa Non lo so Allora comunque qua Ce n'è una Andiamo qua su C'è anche una specie di villaggino Delle casette Magari ci si trova qualcosa dentro Non lo so Molto spesso in queste zone In vacanza Guarda Un infanto Tu dove sei? E qui in alto Ok c'hai una Ok sì Mi accetta il legno Io ho trovato la scada Però il legno Allora con queste qua In teoria se ci saltiamo sopra Ecco sì Ma non ci dà il drop Che palle Ah no sì Se spacchiamo in alto Ce lo dà il drop Vabbè Magari ci prendiamo TNT TNT ho trovato La TNT se non sbaglio La puoi usare soltanto Se c'è il kit Vediamo Qua non c'è nulla Che schifo è sto posto Aspetta No 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 Non mi convince Oddio Non No ok Non era niente Prendi soltanto danno Se fai questa cosa Non lo vuole Allora qua c'era un pochettino D'armatura Jakob fermati Ah no Tu ce l'hai già C'è l'hai già quella lì Quindi niente Allora Continuiamo a esplorare un pochettino Qua Questo piano Un pochettino Più in alto Ah nella torre lì Nella torre forse c'è qualcosa Andiamo a esplorare Proprio Andiamo a esplorare Dopo tattici qui Non conosciamo la mappa Andiamo a giro Ok no Sembrerebbe essere Ok sì Qua c'è una cesta Oh c'è uno davanti Come davanti Dalla salda apposta Ok vabbè Andiamo qua Stiamo attenti Le pesa la cesta C'è roba buona I saloni li vuoi? Se te ce l'hai già Passameli sì Qua c'è una patata Prendiamola Oh Però se ti tocca Ne abbaiare Ci sono i vicini No E il mio cane Altro che Ok io salgo Così almeno Siamo Ok Ma salgo E tipo non si può salire Perfetto Quindi scendiamo È l'unica E vediamo se sotto Ci stiamo persi qualcosa Probabilmente sì Ma non si sa mai Allora questo qua Ci stanno Stiamo persi più in terreno Del cibo Sì in effetti sì Perché siamo entrati a metà torre Così a caso Guardaci nelle fornaci Che ci sta la roba Ci sta il cibo Oh c'è una cassa Una cassa? Oh va No Hanno già presa Mi sa che è passato qualcuno Allora stiamo Ok ne ho vedo un'altra di cassa Qua davanti a noi Quindi magari qua c'è qualcosa di buono Non so A me servirebbe una spada Più che Oh Aspetta Allontaniamoci Prendiamo qua Allontanati il bordo Il bordo Il bordo fa male Cazzo mi ha preso Oh c'è uno L'ha e mezzo Ce ne sono due davanti La vedi? Li vedi? No non li vedo Nel campo di grano Guarda lì Vedi là in fondo Ti giuro non li vedo L'ha ucciso L'ha ucciso di qua Ah ok Non ho visto uno Non ho visto uno Sì 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 Andiamoci Cavolo No A chi la No no A chi laurea Non è chi laurea quella lì Aspetta aspetta Ce la possiamo fare Iaco ce la possiamo fare Uno è morto Uno è morto Bella 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 Non è chi laurea Quello lì ha usato l'abilità È un'abilità bellissima Praticamente quella del brawler Che tu col destro Fai lancinare nemici Tranquillo Non sono shit Però io ho perso un bordello di vita Rischiavo di morire Hai una spada migliore della mia Entra qua dentro Entriamo qua dentro No no Non c'è andare Non c'è andare Il bordo Il bordo Iaco il bordo Scapperà a questa parte Eh ma io c'ho l'armatura Da darti Sì no no vabbè Vieni Vieni da questa parte qui Lì c'è il bordo Si muore se rimaniamo lì Anche qua Si sente No non ci conviene rimanere qua Iaco Scappiamo verso di qua Anche se siamo più esposti Comunque non c'è il bordo Sul ponte Sul ponte Tanto appena arriva qualcuno Lo vediamo Ok Vieni Perfetto Perfetto Allora cos'hai Pantolini dorati Pantolini dorati Che in teoria sono uguali A quelli che c'ho io Forse non lo so E poi Cosa Cos'hai Hai su questa armatura Non so se è meglio Però tienila comunque Sta per esponare la cesta Ormai però ci siamo persi Non è che mi hai messo Cos'è Non Boh te l'ho tirata Non hai l'arma meglio te Della tua No Cioè non c'è nulla Cavolo Allora c'ho l'arco anche Allora l'arco si ce l'ho anche Ma non c'ho le frecce Proprio messi bene Aspetta Ho visto una cosa strana qua davanti Ma forse me la sono sognata Sì sì me la sono sognata sicuramente Allora L'hanno presa Sì Qui c'è un morto Ehm Bene i morti sono Qui ci sono i morti Guarda quanti Sono morti tutti quindi non lo so Oh siamo rimasti pochi in team Jaco Noi siamo l'unico team insieme al bianco Che siamo rimasti in due Quindi se ce lo giochiamo bene Però cavolo se troviamo già un full iron Non siamo morti Cavolo Ehm vabbè Giochiamocela con calma Qua non c'ha preso tutto Ah Ehm Cosa un incantamento Uh Uh guarda qui cosa c'è Jaco Jaco C'era tantissima roba Oh mio dio Allora Tieni questo per te I piedini per te Questo se lo vuoi Meglio di quella d'oro Sì 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 E una spada in legno Almeno fa uno più di danno Di quelli che c'è te E qua proviamo Sì sì c'è anche la roba per incantare qua Possiamo incantarci la spada Sharp nessuno Unbreaking Perfetto Ehm Io mi metto anche qualcosa nell'armatura Se mai mi usci A parte siamo nella 1-8 Quindi vediamo cosa esce Protection 1 Perfetto Ok Io ho filatezza 1 Dai E anche l'armatura Metti protection 1 nell'armatura Che ti conviene Eh non c'ho più Non ci sono più Aspetta Non più le lapislazzoli Non c'è nemmeno da me Aspetta te lo prendo io Start deathmatch Deathmatch Aspetta ti incanto io l'armatura Se posso Cavolo esce livello 2 Livello 2 No tutto livello 2 Mi esce Niente dai Allora già non posso fare niente Ehm Andiamo 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 Iaco Premi tab Ce l'ho visto Noi due contro uno C'è scritto Cosa Start deathmatch Ha chiesto Allora Ah fai slash DM Ok 60 secondi Ok l'ho già fatto io Vabbè dai Vediamo ora Come hai messo questo qui Oh pronti Sì abbastanza Ma nemmeno tanto Vediamo Oh cavolo Iaco Oh cavolo Eh Hai messo bene lui eh Eh lo so Spostati subito a sinistra E tira una freccia così Ok L'ho tirato le frecciate anch'io Oh Due colpi andati a segno di frecce Sì Li taglio la strada Li taglio la strada se posso Vediamo Iaco circondiamolo Bravo bravo Aiutami aiutami Li lascio anche il cane addosso No niente Iaco niente Mi devi aiutare anche te però Bella Wow E il team Speranza vince Incredibile Oddio È stata dura No a parte che il team Non è speranza ma sogno Sogno vabbè Sogno Speranza E uguale Più o meno Sognavamo di vincere Ce l'abbiamo fatta GG GG Ma non è sofferta questa qui Ok ragazzi Quindi alla fine Ce l'abbiamo fatta vincere Per fortuna Comunque ovviamente Canegliaco Ve lo trovate in descrizione Io sto volando E ciao a tutti Che ci ha buttato di sotto Che palle Ciao ragazzi Ciao